Benvenuti nel mondo degli orologi Casio. Casio è una rinomata azienda giapponese specializzata nella produzione di orologi elettronici e dispositivi di precisione. Fondata nel 1946 da Tadao Kasho, un ingegnere specializzato in tecnologia della fabbricazione, Casio ha iniziato la sua attività con la produzione di calcolatrici elettroniche e altri dispositivi elettronici. Nel 1974, Casio ha lanciato il primo orologio digitale al mondo con calendario automatico, il Cassiotron. Da allora, l'azienda ha continuato a produrre numerosi modelli di orologi innovativi e di successo, come il G-Shock, resistente agli urti e alla pressione, il Data Bank, con funzione di agenda elettronica, il Wave Chapter, con ricezione radiocontrollata del segnale orario, e l'edifice, con connessione Bluetooth e ricarica solare. Casio è conosciuta in tutto il mondo per la sua affidabilità, precisione e qualità. Gli orologi Casio sono resistenti e duraturi, adatti per le attività quotidiane e gli sport estremi. La gamma di prodotti Casio offre molte opzioni, dai modelli eleganti e sofisticati per le occasioni speciali, ai modelli sportivi per l'uso quotidiano.